Ebbene sì, anche Pomiro va dall'estetista. Ti lascio il video. Miau! Ma dici a me? Gne gne gne. Sfida accettata. Prenoto e vado. Ci siamo quasi. Non ti nego un po' di vergogna. Eccoci. Centro estetico sempre perfetta. Andiamo. Ciao. Ciao. Sono i ragazzi che ti aveva pronotato per la ceretta. La ceretta? Sì, guarda. È una scommessa che ho fatto con dei miei amici di TikTok. Dovresti farmi una ceretta in testa, per favore. Guarda come la devi pagare lo stesso. Te la pago lo stesso, non c'è problema. Posso? Prego, entra. Grazie. Andiamo. Attimi prima. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi. Una cresta, ragazzi. Ah! Ho detto che non faceva niente. Eh sì, un po' di cremina ci vuole. Questo è l'effetto. Guardate quanti peli. Grazie mille. Miau! Allora? Grazie a tutti.